Carissimi italiani, mi pongo una domanda, ma poi vi darò anche la risposta esatta. La domanda è, chi sono adesso gli ignoranti? Dopo tutto quello che è saltato fuori, grazie alle inchieste giornalistiche di Report, fuori dal coro e dal giornale La Verità, e dopo tutte le intercettazioni venute a galla, vi pongo questa domanda, chi sono realmente gli ignoranti? Avete il coraggio di dirlo? Prima eravamo etichettati noi ignoranti, in quanto non ci siamo mai fidati dell'intruglio magico. Adesso gli ignoranti siamo sempre noi, carissimi, noi non eravamo ignoranti né prima e né adesso. Voi siete stati ignoranti e continuate ad esserlo. Ignoranti. Prima di salutarti, voglio chiederti se non lo hai ancora già fatto, di iscriverti a questo canale. Con la tua iscrizione, insieme, diffonderemo le verità che ci vengono nascoste. Attiva anche la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. La verità fa male, ma qualcuno deve pur raccontarla. Al prossimo video!